Un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi che apriamo con il calcio, con il campionato di Serie C e con il debutto. Torniamo dunque a parlare, ad analizzare il debutto della Lucchese avvenuto al Porta Elisa contro il Perugia. La prima lucchese della stagione è piaciucchiata usando un'espressione un po' così di crozza nell'imitazione di un famoso uomo politico. I 90 minuti del debutto stagionale del Porta Elisa di fronte al pubblico delle grandi occasioni come non si vedeva da tempo dai quarti di finale del playoff 2017 contro il Parma ha mostrato una squadra capace di qualche sprazzo interessante ma ancora priva della necessaria continuità. Di fronte un Perugia di Francesco Baldini, l'ha sonato quanto macchinoso ma pur sempre squadra con individualità di spicco. Ai punti, come si dice in gergo avrebbe vinto la Lucchese, gridano vendetta, le occasioni sprecate e la traversa di Rizzo Pinna ma siccome non siamo nel pugilato è finita in parità che alla fine sta bene a tutti. Sul piano individuale spiccano il portiere Chiorra e il vivace guadagno. In realtà sul prato del Porta Elisa si sono visti anche tanti errori e la cifra tecnica del match non è stata affatto elevata ma era la prima di campionato e quindi le attenuanti non mancano. Gorgone, che giustamente vede il bicchiere mezzo pieno, dovrà inserire anche i nuovi ed ogni riferimento a Magnaghi e a Yeboah non è affatto casuale e valutare poi se insistere sul 4-2-3-1 oppure affidarsi al più solido 4-3-3. Roba da studiare in fretta visto che gli impegni incombono con due trasferte consecutive, Sestri Levante e Recanati, che non hanno enorme indice di difficoltà ma che sono pur sempre insidiose. Da un paio di settimane siamo tutti fortemente preoccupati per le condizioni di salute di Diego Checchi, giornalista che da anni segue con professionalità e passione le vicende della sua lucchese. Sì, perché Diego sicuramente ha tatuati sulla pelle colori rosso-neri. Ebbene, venerdì sera in Curva Ovest è apparso un bellissimo striscione, lo vediamo, degli Ultras 1905 che recitava così Diego Cuore Rosso-Nero. Ovviamente l'auspicio, la speranza di tutti è quella di rivedere Diego al più presto nella sua postazione al Porta Elisa a scrivere, soffrire e tifare per la sua lucchese. Vediamo anche i risultati della prima giornata del campionato di Serie C con un posticipo. Cararese-Fermana 3-0, Gubbio-Pinetto 1-1, Lucchese-Perugia 0-0, Olbia-Cesena appunto in posticipo, Pescara-Juventus-Bi 3-1, Pontedera-Sestri-Levante 2-0, Recanatese-Torres 1-2, Rimini-Arezzo 1-2, Spalvis-Pesaro 1-0, Virtus-Entella ancora 1-1. Beh, la classifica ve la facciamo vedere proprio pro forma, ci sono le squadre che hanno vinto, Cararese-Pescara-Pontedera-Arezzo-Torres e Spal con tre punti, le altre a uno, Olbia-Cesena sono a zero, ma ovviamente il loro campionato non è ancora iniziato. Passiamo all'atletica, buona prova di Samuele Ceccarelli che illumina sul piano tecnico la seconda edizione del Meet in Città di Pietrasanta, sulla pista dove si allena, possiamo dire, quotidianamente, il 23enne velocista azzurro, campione europeo su 60 indore, campione italiano su 100, ha vinto in scioltezza staccando un buon tempo di 10 secondi e 23 centesimi, dove si consideri che non aveva di fronte grandi avversari e che siamo a fine stagione. Nelle sue spalle Romeo Monaci, 10-80, e il virtussino Francesco Cordoni con 10-89, bene nei 100 femminili, Irene Siragusa che si è imposta in 11-42. Siamo ai motori, un quarto e un quinto posto nelle due gare del Trofeo Aprilia, svoltesi sul circuito del Mugello, risultati che non appagano le ambizioni di Filippo Bianchi, che adesso si trova distanziato di ben 25 punti dal leader Edoardo Colombi, che invece ha ottenuto due secondi posti. Manca solo la prova finale di Imola, ma a questo punto per Filippo Bianchi riuscire a conquistare il titolo è davvero difficile. Dovrà vincere ad Imola e sperare che il rivale non conquisti punti. Da segnalare che al Mugello ci sono stati due successi del rumeno Adriano Oshuk. Primi canestri del Basketball Club Lucca, seppur inamichevole. Prima amichevole per il Basketball Club Lucca contro il Cus Pisa, con pagine che quest'anno giocherà nella Cunica. Una partita all'insegna della disperimentazione, dove Coccio Livieri ha alternato quintetti e combinazioni. Al termine si è detto soddisfatto, avendo centrato gli obiettivi fissati prima di scendere in campo. A dire il vero, qualche volta la squadra ha perso la giusta intensità, ma è probabile che la ragione di questo risieda più nella stanchezza fisica che mentale. Alla fine sono arrivate indicazioni utili che serviranno per il futuro. L'andamento della partita, seppur il punteggio finale sia stato ampiamente favorevole a Lucca, è stata altalenante, con qualche leggerezza in difesa, ma complessivamente è stata una buonissima prova. Adesso Livieri e i suoi ragazzi dovranno far tesoro delle prime indicazioni e prepararsi per la prossima amichevole in programma mercoledì 6 settembre, 20 e 30, ancora al Palatagliate. Si alzerà ulteriormente l'asticella, poiché si passerà da un Cus Pisa, ne ho promosso in Cunica, ad una squadra decisamente più impegnativa come l'Use Empoli, con pagine della B nazionale. Il tennis e l'hockey per chiudere nel tennis, nonostante l'eliminazione al primo turno degli US Open, migliora ancora la classifica mondiale di Jasmine Paolini, che adesso è numero 33 al mondo. Adesso il programma della tennista lucchese prevede ancora Nord America, a San Diego e a Guadalajara. Poi si sposterà in Cina la Paolini per una trasserta che manca dal 2019 a causa del Covid. Chiudiamo con l'hockey, doppietta di bronzo per le nazionali Under-17 maschile e femminile del commissario tecnico Massimo Giudice, doppietta di bronzo agli europei appunto di correggio nella squadra maschile che ha vattuto per 3 a 2 supplementari la Francia, da segnalare che la rete del successo, dopo due minuti e un secondo del primo tempo supplementare, è stata segnata dal Via Reggino Elia Cardella. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noio, mi fermo qui. Vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia dei programmi di Noi TV.